Ma come dormono le persone oggi? Non se ne parla ma c'è una vera e propria emergenza. Le persone dormono male, le persone dormono poco. È un problema molto grave. Il sonno è fondamentale per l'intero metabolismo umano. È attraverso i cicli sonno-veglia regolati dalla luce del mattino e dalla luce che i nostri occhi introducono alla sera che viene regolato nel nostro ritmo sonno-veglia e quindi tutte le ghiandole del nostro metabolismo prendono il loro ciclo naturale. È un'epidemia, l'epidemia dell'insonnia che viene trattata con i farmaci invece che con la sua cura più naturale che è quella di rimettere in equilibrio i ritmi biologici. Questa tecnica, la tecnica di riequilibrare il sonno in modo naturale quindi non farmacologico e rendere quel cambiamento stabile e definitivo è un'importante tecnica di biohacking ovvero una strategia scientifica per portare dei miglioramenti sulla tua salute quotidiana che ti portino a un livello superiore di salute. È importante capire quali sono le tecniche, le strategie, i metodi per dormire bene senza ricorrere alla dipendenza da farmaci. E questo deve essere il processo più naturale che esiste. Se vuoi scoprire di più su questo tema siamo qui per raccontarti come si fa e per condividere le nostre esperienze e metterli in contatto con una rete di più di 2500 professionisti che sanno come questo va fatto in modo naturale.